Massimo Giucca nasce a Modica nel 1963. Rimasto orfano del padre a 13 anni. Già da piccolo dimostra una gran passione per la musica. In particolar modo per le tastiere. Nel 1983 fonda con i suoi amici un gruppo di musica seria. I Wanted. Massimo diventa successivamente un geometra. La carriera di Mr. Max inizia nel 1992 quando si mette a realizzare. Per gioco. La parodia di Mare Mare di Luca Carboni in siciliano che successivamente circola in tutte le radio. Siciliane dà un successo enorme. Tanto che il neocantante comico decide di realizzare un album. Mr. Max. Inciso presso lo studio C. O. M. A. Di Pozzallo e contenente parodie in siciliano strettissimo alle migliorite del momento. La prima esibizione live di Mr. Max avviene nell'estate dello stesso anno. Qualche tempo prima dell'uscita del suo primo album. A Portopalo. Dove quella sera sta suonando il gruppo degli Effetto Serra sponsorizzati dalla C. O. M. A. Ed in cui c'è anche Dino Oliva. Colui che fece la copertina ai primi due album di Mr. Max. È in quella sera che Marcello Prati. Produttore della C. O. M. A. Chiede a Dino di fare esibire un cantante ancora del tutto sconosciuto. Un certo Mr. Max. Che si esibisce presentando in anteprima il brano Miss Fascia Ruscal da bagno che poi sarebbe. Uscito a fine estate nel suo primo album. A fine 1992 Mr. Max torna nuovamente in studio producendo il secondo album. Miss Imperi. Composto da sole quattro tracce. Quasi fosse un singolo. Forse questo è l'album più raro che abbia mai prodotto. Nel 1993 Max produce altri due album. Sei un mito e tocca qui. Poi, nel 1994, arriva un altro mirabolante album. Estate 94. E nel 1995 un altro ancora più mirabolante. Voglio andare a vivere in campagna. La cosa che stupisce dei due album è che compaiono sia parodie in siciliano. Sia in italiano. Tra il 1995 ed il 1996, video mediterraneo produce alcune videoclip di Mr. Max. Nel 1996 Mr. Max cambia etichetta. Passando dalla C. O. M. A. Allo studio 34. A Modica. Così facendo, è costretto a smettere di produrre i primi sei album. Ma comunque non rinuncia a conservare i migliori brani. Così realizza una compilation. Il meglio di Mr. Max. Ed una ristampa arricchita dell'album Voglio andare a vivere in campagna. Poi, dandosi a nuovi progetti, realizza un album estivo parecchio gettonato. Divertentissimo. Ed uno di fine anno. Pansuni. Nello stesso anno Mr. Max va anche alla trasmissione insieme di Teletna. Nell'anno successivo Mr. Max realizza un altro album importante. Il ciclone. Contenente un medley di canzoni siciliane. Ovviamente parodiate. Ed un'altra canzone importante. L'acqua non c'è. L'aura non c'è di Neck. Inoltre in questo album debuttano i cosiddetti remix delle canzoni già realizzate. Ad opera di Roberto Gallà. Aurelab Digital Studio. Caltanissetta. Nel 1998 Mr. Max dà alla luce un altro album sudato. Gol. Incentrato sul calcio. Mentre nel 1999 realizza un album intitolato Il Piripiritero e poi. Ormai ricco di risorse. A proda al formato CD con l'album Ma quanti peli hai? Se prima i dischi uscivano solo in musica setta. A partire da questo album tutti i successi di Mr. Max saranno editi sia in CD che in Mac. Il 1999 è l'anno in cui dà il matrimonio tra lui e la corista Cinzia. Nasce la prima figlia, Sofia. Nel 2000, nasce il secondo figlio, Matteo. Con un numero di fan molto alto. Mr. Max fonde dialetto ed italiano nei suoi testi con l'album La Banana. Nel 2001 Mr. Max crea il suo sito internet. www.studio34.it. E realizza altri due album. Tanto X cantare ed Euromax. Il successo di Tanto X cantare è tale che vende 80.000 copie. Nel 2002, con un livello di popolarità ormai parecchio incrementato il Mr. si dà da fare. Prima fa uscire un nuovo album. Salirò. Poi realizza la videoclip del singolo Il Cagnolino. Che viene messa sul sito. Infine fa uscire la versione CD dell'album Il Ciclone. Poi, nel 2003, fa uscire la versione CD del Meglio di Mr. Max. Voglio andare a vivere in campagna. Divertentissimo e gol. Più due album nuovi. Chissà X che è spaziale. Da chissà X che viene estratto il videoclip del singolo La Puntita. Nel 2004 Mr. Max produce un album particolarmente spinto ma per questo più divertente. Fuori di testa. Album parecchio pubblicizzato. Ne viene infatti estratto un videopromo pubblicato sul suo sito insieme alle altre videoclip. Il 2004 è anche l'anno in cui nasce la terza figlia di Max, Roberta. Poi, nel 2005, raggiunge una maggiore popolarità con un album famosissimo. Super, contenente la parodia di Gasolina che ben presto diventerà il suo cavallo di battaglia. Poi realizza una compilation di 20 brani. Tutto Mr. Max, contenente i migliori pezzi del cantante. Nel 2006 realizza poi l'ultimo album ad uscire anche in musica setta. Tricche e ballacche. Nel 2006 effettua anche un primo approccio con Disco Ring Sicilia. Un management messinese che organizza eventi in Sicilia. 2007. Anno nuovo. Progressi nuovi. Mr. Max smette di produrre le musica sette. E gli album panzoni ed il piripiritero. Non essendo usciti in cd. Non vengono più venduti. Poi realizza un album. Due per uno. Uscito esclusivamente in cd. A cui è allegato un dvd con le videoclip a cartoni. Rinnova anche la sua pagina web. Creando il sito web La Casa di Mr. Max. Avente però lo stesso dominio del sito precedente. Poi, a Natale, realizza una compilation di 16 brani. Ballando sotto le stalle. A maggio del 2008, Luca Scivoletto, cofondatore della Pinup Film Hacking, torna a Modica, la sua città natale. Per girare un documentario su Mr. Max. Personaggio che in qualche modo rappresenta Modica. A partire da maggio fino a fine estate 2008. Mr. Max gira le scene del film. Che uscirà solo nel 2010. Intanto, per l'estate 2008. Mr. Max fa uscire un piccolo album. La canzone di Silvietto. Ma essendo in quel periodo preso dalle riprese del documentario. Non riesce a realizzare nulla di tanto speciale. L'uscita di questo album, intanto, diviene fondamentale nella trama del film. Nel 2009 Mr. Max realizza un sito web tutto nuovo ed in estate realizza uno dei dischi che hanno avuto più successo. Il più fico sono io. In cui dimostra una ilarità molto piccante e scanzonata. In questo periodo, Mr. Max comincia ad approcciare con Radio Castellumberto. R.C.L. Emittente messinese a cui appartiene Discoring Sicilia. Fino a diventare membro dello staff ed a fare passare su questa radio i suoi brani. Tra il 2009 e il 2010. Mr. Max partecipa al programma satellitare Ci siamo anche noi di Discoring Sicilia. Trasmesso sul canale di Sky894 Napoli Mia. Il 24 giugno 2010. Intanto, Mr. Max ci regala un album dall'impostazione tutta nuova. E, state freschi, Studio 34 si è ormai rinnovato. Perché la sede dove era situato è stata venduta ed allora Mr. Max usa per registrare il salotto di sua madre. Si tratta, insomma, di un album autoprodotto, ma che riesce a farci ridere magnificamente. Nell'estate 2010 viene terminato il documentario su Mr. Max. Intitolato semplicemente Max e prodotto dalla Pinup Film Hacking. I primi di giugno viene diffusa la notizia online facendo circolare il trailer grazie a YouTube e siti simili. Il film viene proiettato per la prima volta al Film Festival di Roma due giorni prima dell'uscita dell'album. E, state freschi, per poi essere successivamente portato a Modica e dal Salina Dogfest. Ed esce il 20 agosto in DVD. Nell'estate del 2010 si separa dalla moglie. Nel 2011 si lega ad una nuova compagna. Nel maggio 2011 Mr. Max partecipa alla seconda edizione del programma televisivo Italia's Got Talent. Ma non viene premiato. Anzi viene scartato subito. Per l'estate 2011, Mr. Max realizza un album esilarantissimo, Tocca Tocca, con brani più impegnati sul sociale ma allo stesso tempo divertenti. Nello stile del simpatico cantante Modicano. Tra il 2009 e il 2012 si è esibito in concerto oltre che in Italia anche in Germania e a Zurigo. Il 29 giugno 2012 esce il suo nuovo disco. Tocca Max composto da sei brani inediti e i suoi primi successi Mare Mare e Miss Fasciaru Scaldabagno. Nel 2013 fonda il suo canale su YouTube. Mr. Max Official. Dove carica in video tutte le sue canzoni ricevendo molte visualizzazioni. Molti mi piace e molti commenti positivi. Inoltre nel 2013 esce il suo nuovo album Canta e Balla Cati Passa. Nel 2014 è uscito il suo nuovo disco Condividi. Composto da alcuni brani inediti.